Oggi è passato per Borgotaro il raduno internazionale di autostoriche Terre di Canossa, un'occasione importante per far conoscere a Borgotaro a tanti visitatori provenienti dai più svariati paesi europei, perché il raduno vede equipaggi provenienti da tutta Europa, con autostoriche di grandissimo valore, quindi un'occasione anche di essere all'interno di questo importante e riconosciuto raduno internazionale di autostoriche per far conoscere a loro e anche per Borgotaro per essere ricordato come tra i comuni patrocinatori di questo importante evento. Sì, in questo momento mi piace, ma abbiamo solo iniziato questa mattina. La strada è facile o difficile? Solo seguiamo il nostro amico, ma è ok, è molto bello. Un ambiente incredibile, montagna praticamente. Le strade per arrivare sono bellissime, panoramiche, molto interessanti. Il fondo stradale per noi è un po' complicato perché con le nostre macchine si può migliorare. però i panorami sono fantastici, fantastici. Anche i pasticini. Vediamo, originario il coccio di qua. E anche l'accoglienza calorosa di tutti gli scolaretti che ci hanno accolto. Voi venite da? Allora, le prove. Io vengo da Lugano e io vengo da Bergamo. Grazie. Grazie a te. Siamo partiti da Centro Parma e poi siamo passati tutti coltina, montagna e siamo arrivati qui da qua. Il percorso va bellissimo, abbiamo visto, non so come si chiama, il castello di Bardi. Paesaggi bellissimi, siamo molto contenti di essere qui. Siamo passati anche la pista di Barano. Avete assaggiato anche gli amo? Cosa sono? I nostri dolci? No, non so. Non so, non so. Non so, non so. Ok, dai proviamo. Dai provo io. Quindi come stai passati? Siamo passati quasi 2.000 km per arrivare a qui in Italia per fare parte in Terra di Canossa. Fantastico evento, brillante ruote, grande italiana, benvene. La carica che siamo arrivati è chiamata la Beauty Boxe. È un Moris 1800 e in 1970, questa car drove 16,000 km da Wembley Stadium in London a Mexico City Stadium per la World Cup Rally. La lunga che ha avuto avuto in storia. E questa car è stata 18th in questo evento. È molto felice di portare l'Italia. È stata qui in 1970 e ora è qui in 2016. So, hello to Italy from the Beauty Boxe.